Il problema dell'inquinamento record a Venafro ha riportato al centro del dibattito anche il progetto per la realizzazione della bretella di Cepagna, pensata per evitare il passaggio di auto e tir nel centro abitato. L'ANAS, come noto, ha accantonato questa opzione, ma il consigliere regionale Antonio Tedeschi non ci sta. È vero, dice, che i problemi ambientali sono legati in larga parte a impianti impattanti già esistenti, per non parlare di possibili nuove costruzioni, ma è pur vero che anche il traffico incide. Per questo invita l'ANAS a riprendere in mano il progetto o a dimostrare che l'ipotesi alternativa, e cioè la Mignano-Montelungo-Sesto Campano, sia realmente percorribile. È quello che chiediamo all'ANAS di fare chiarezza, di dire ai cittadini molisani, ma ai cittadini di Venafro e della Valle del Volturno, se vuole finanziare la Mignano-Sesto Campano, di metterci i soldi, dimostrare che ci siano questi soldi e di finanziare da subito un progetto esecutivo. Altrimenti si finanzi la bretella di Cepagna, assolutamente perché non è possibile che l'unica città rimasta in Molise che viene attraversata quotidianamente da migliaia e migliaia di camion, quindi violentata quotidianamente da migliaia di camion, rispetto ad altre città come Isernia, come Campobasso, come Boiano, come Termoli, che non hanno più un'arteria che passa nel cuore della città. Sulla questione a breve si pronuncere anche il Consiglio regionale, proprio grazie alla mozione presentata da Tedeschi. A suo avviso è necessario fare pressing a Roma per realizzare un'opera ritenuta strategica, sia sotto il profilo ambientale, sia in termini di sviluppo socio-economico. Sono stato il primo firmatario di una mozione che chiede semplicemente al Governo regionale, al Presidente e all'assessore competente Vincenzo Niro, che devo dire onestamente si è attivato da subito su questa situazione, di chiedere al Ministero competente e all'ANAS di fare chiarezza e di dire una volta e per tutte cose intende fare per questo territorio. Perché non è concepibile, come dicevo prima, che ci sia una situazione ambientale in quel territorio, non soltanto ovviamente per problemi legati al traffico, ma anche purtroppo problemi relativi anche agli impianti che sono installati su questo territorio, ma di chiedere all'ANAS e al Ministero competente di finanziare un'arteria che decongestioni questo territorio.